e bella a tutti ragazzi sono FabiJ e oggi c'è un nuovo video di FIFA 15 faremo una partita a Barcellona e a Madrid vedete i collax che faccio? a warri e anche il bebito in partita oh, oh allī che se lo bravo non sono un po' più volume oh, che dovevo fare oh, 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 oh con te ragazzi questo video ci metterà un po' troppo assolato perchè su wend adventure, su skywars fallo! fallo! quale? è troppo figo io ho fatto una partita che hanno compito su piccoli parti tre colla e tre secondi e cosa la sta su piccoli parti? lo sa che è bello e ragazzi ci andiamo ci andiamo ci andiamo quello, quello, quell'altro mi dispiace vabbè ragazzi mi voglio io so dove si trova tutte le armature in diamante io so dove si trova la corazza in diamante con la protezione 5 e un breaking 4 come? come non è andato fallo? ci sono tanti armi diventuti del cavolo progettivo mi dovrebbero ammazzare no non è quello un parkour che sta all'interno di skype būpile un parkour complicato mentre tu fai il giro delle isole un parkour ci sta un parkour Come? Sto registrando Che c'è? Sto non ho un problema per perdonare i miei video Anzi, gli iscritti saranno pure più contenti di sentire un altro youtuber con me Vero? Scriviti su come ti sei vero Spero che vi piaccia Perché io ci metto proprio quello che posso Per farvi divertire E se vi piace Allora, consigliatemi un po' Dove stanno? Ragazzi, scusate per questa piccola intenzione Ma mia mamma mi ha preso una cosa Non è normale Mamma, dove stanno? Non le vedo Non le trovo ma Ragazzi, scusate per questa piccola intenzione Ehmma, eccomi qua Mi stanno dicendo Ma non mi ricordo No, non mi raccomi No, non mi raccomi qua Non non mi raccomi qua Grazie. 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 Vengono uccisi. Ragazzi, ve l'ho detto che si recuperava ed ecco il recupero. Ve l'ho detto. Fatti. Se ti prometto una cosa... Ok, non state necessità. E nel caso là abbiamo una nuova serie di Minecraft, ricorda di lasciare, no, perché non sto finendo. Ve lo dico comunque, ma non so capire, ricorda di lasciare un po' di su per un prossimo giro. Ok? Continuiamo a trattare. Il bacio allora non vi sostituisce. Armai, laghi! Se mettete tante le copiagge e che mi scrivete nei commenti, come ci fanno i scappettamenti, laghi, ma non ci gioco più con Mari quando ha chiuso, basta. Che vi ho detto, regà? No, basta Mari quando io, tanto voi li aprite fuori. E non è meglio non ci sono tessi. No, esatto. Mi spegni e potete mettere il camisato, per favore? Sì. Perché non oggi non ti faccio giocare poi, eh? Ah, sta nuova, sto mi distrutto. Facciate un ottimo. Ragazzi, portate il terzo collo. Portate il terzo collo. Ragazzi, lo sapete o no che Suarez è un ottimo spazzolone? Perché solo lui segna, solo lui. Nessun altro mi ha segnato. Mi ha segnato solo Suarez. Oh! Mi ha voluto fare? Sì. Beh. Mi ha segnato. Come Ronaldo. come Ronaldo a me è venuto del signore non è mezzo quindi non posso girare non è mezzo quindi non posso girare non è mezzo quindi non posso girare un mess non è messo non è mess non è mess Maledizione! 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 Maledizione!